domanda in televisione ho visto come avviene la creazione dei corpi celesti e non riesco a immaginare come nello scatenarsi di quelle forse possa esistere la coscienza che secondo voi è presente anche in ognuno di noi lo potreste immaginare se pensassi che l'individuo che per voi è stato san francesco adesso è la coscienza cosmica che crea i corpi celesti domanda in televisione ho visto come avviene la creazione dei corpi celesti e non riesco a immaginare come nello scatenarsi di quelle forse possa esistere la coscienza che secondo voi è presente anche in ognuno di noi lo potreste immaginare se pensassi che l'individuo che per voi è stato san francesco adesso è la coscienza cosmica che crea i corpi celesti ognuno di noi lo potreste immaginare come nello scatenarsi di qua